Don Danilo, parrocchia di San Michele Arcangelo, in piazza San Michele nel corso di Arezzo, è il particolare presepe del sapere che ha avuto i doni, come tutti i giorni della Befana, non è giusto? Giustissimo, diciamo che al Signore che viene gli si porta un po' della nostra vita. I Re Magi potevano portare quello che per un Re era sicuramente importante, l'oro, l'incenso e la mira con significati molto particolari. Noi abbiamo sicuramente la nostra vita che per il Signore è oro, è veramente una cosa molto preziosa e uno di questi è proprio quello che dicevi, il sapere. Il sapere è un grande patrimonio, tu hai trovato dei ragazzi che hanno contribuito, dello scientifico, a fare questo presepe del sapere. Sì, scientifico e classico e quindi nella costruzione più che altro è stato bello il dialogo la condivisione su alcuni temi fondamentali della vita dell'uomo. Quindi comunque vada al di là della semplicità di quelli che sono delle cose che si vedono, c'è stata una grande preparazione, una grande interiorizzazione. Chi volesse visitare il presepe è aperto fino a domenica. È aperto fino a domenica sicuramente dietro spiegazione, perché la nostra strada non è una strada che è bello vivere da soli, è bello vivere condividendo il cammino fatto, condividendo anche le idee e il sapere che ognuno di noi ha. Quindi una cosa moderna che a mei tempi avrebbe fatto rabbrividire, perché noi odiavamo i libri però io avevo fatto i geometri, quindi è fatto bene a chiamare il classico. Beh sicuramente anche io avendo fatto i geometri sono geometra anch'io. La roba che sorpresa, fuggiremo insieme a fare punti trigonometrici in Angola. No, no, di solito era come il Parco Giotto, era il nostro punto di riferimento. No, la cosa bella e importante secondo me è questo, che la nostra vita non deve mai fermarsi a quel caos che vediamo sulla strada, ma cercare sempre di trovare quella parola, quella sapienza che ci rende liberi e ci rende veri. Un presepe diverso, senza dubbio una cosa affascinante, perché queste lettere sparse portano poi alla fine a un sapere, se ordinate con l'aiuto del Signore, mi sembra di aver capito questo. Assolutamente, assolutamente. La cosa bella è che sono stati ragazzi felici di aiutarmi. Ma l'idea è stata la tua? Ma è stata insieme, ci piace pensarlo, averla avuta insieme e soprattutto ci hanno fatto camminare anche a noi, che noi pensiamo di essere arrivati, in realtà no. Grazie Don Danilo e ricordo ai fedeli, non fedeli, curiosi, che volessero venire a vedere il presepe, che fino a domenica sera è aperto San Michele, in piazza San Michele nel corso del centro di Arezzo.